Queste situazioni non sono più sostenibili per una comunità che vuole vivere anche di turismo. Sulmona ha bisogno di efficienza e non può presentarsi con la sua principale infrastruttura di accoglienza né più totale stato di degrado funzionale. Può Sulmona riservare una tale accoglienza ai propri visitatori? Qualcuno potrebbe dire che non è questo il problema più importante della città, ma spesso le grandi rivoluzioni hanno inizio da piccoli interventi. E quanto dichiara il consigliere comunale Luigi La Civita, riferimento all'ascensore, è situato nel parcheggio di Santa Chiara sulmona. La Civita parla di emergenza degrado e racconta un episodio che l'ha visto protagonista qualche settimana fa assieme a una coppia di turisti. Era il 14 febbraio. Una giovane coppia giunta in città, dopo aver parcheggiato la propria auto al primo livello del parcheggio, scrive La Civita, si dirige con il proprio figlio nel passeggino verso l'uscita pedonale. Da un primo sguardo subito percepisco il loro disorientamento. Arrivato in prossimità dei giovani turisti mi viene chiesto dove si trovi l'ascensore per l'uscita verso il centro storico. A quel punto, in presenza di altri concittadini, sono costretto a comunicare l'impossibilità di utilizzo dell'ascensore. Mi scuso immediatamente a nome della città e tendo di giustificare il disagio dicendo che purtroppo l'ascensore è momentaneamente fuori uso. Ma poiché voglio almeno salvare la faccia dei sulmonessi, prosegue nella notte il capogruppo di Forza Italia, cerco di recuperare la pessima accoglienza prodigandomi nell'aiutare due genitori nel trasporto del passeggino lungo le scale. Rivolgo pertanto appello al sindaco Ranalli e alla sua giunta in questi giorni in odore dell'innessimo rimaneggiamento, conclude la civita, affinché con il bilancio economico finanziario 2015 si possa ridare dignità all'infrastruttura pubblica ed evitare brutte figure alla nostra città.